L'hanno chiamata la Santa Alleanza, quella che i partiti tradizionali stanno cercando di tessere. Li chiamano dinosauri. Insomma, è partita a pieno, a titolo, la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle ha ospitato oggi il Non ci fermate Turro, tanta piazza italiana e visitate dai parlamentari che sono stati sospesi dal presidente della Camera, Laura Boldrini, dopo le vicende legate alla Tagliola. Tra i deputati arrivati in Piazza della Repubblica, anche Alessandro Di Battista, uno dei più conosciuti, una sorta di starre per gli altivisti del Movimento che hanno impegnato i primi minuti del suo arrivo a far foto e video e a parlare con lui. Presente anche il deputato regionale Giancarlo Cancelleri ed alcuni altri deputati che hanno deciso di raccontare le loro verità alla gente comune, ai cittadini. Quali sono i rapporti tra la politica e il potere che voi denunciate? Grazie per la domanda, perché non ce la fanno mai, è una delle domande più importanti. Il palazzo è assolutamente marcio, i cittadini devono capire che all'interno delle istituzioni a Roma c'è il marciume. Questo non significa che tutti siano corrotti o collusi o delinquenti, ma il sistema partitocratico è assolutamente marcio. La maggior parte delle persone sono ricattate dai partiti che per farle ricandidare li obbligano a votare delle porcate. Quindi anche le persone oneste che ci sono all'interno dei partiti sono sotto ricatto. Si autocastrano il tutto per colpa dei soldi che ricevono in campagna elettorale e che consistono in dei veri e propri ricatti da parte dei gruppi di poteri, gruppi industriali, crimine organizzato che finanziano le campagne elettorali e poi obbligano questi parlamentari a restituire il favore. Io per la mia campagna elettorale nazionale ho speso 144 euro e questa è l'enorme differenza del Movimento. Se noi riusciamo a togliere i soldi dalla politica, liberiamo la politica appunto dal malaffare. Ad accoglierli Giovanni Magri, candidato sindaco del Movimento, che non le ha mandate sicuramente a dire agli avversari politici. Insomma, tra le righe una sorta disse, non ci tirano in ballo, facciamo i bravi, ma altrimenti ci scateniamo. Si dice che sarà una campagna elettorale a colpi di scoop, come diciamo noi, con notizie che uscirete all'ultimo minuto per, insomma, distruggere gli altri partiti. È vero? No, io penso proprio di no. Non faremo questo, non sarà a colpi di scoop. Già è evidente quello che sta succedendo per questi ingiucci allucinanti che si stanno verificando. Non c'è neanche bisogno di dire chi li stia facendo. Scoop non ce ne saranno perché a loro non conviene proprio. E quindi noi stiamo tranquilli, noi siamo propositivi, abbiamo un programma splendido, fatto con i cittadini seriamente in un anno e mezzo. Quindi noi non abbiamo bisogno di nessuno scoop. Noi speriamo veramente di farcela.